Ciao a tutti raga, io sono Andri Gamer e oggi siamo qui in un nuovo video di Oh My God. Allora, nella scorsa puntata c'eravamo rimasti al livello 2, quindi questi livelli già li ho fatti off camera, però li farò comunque vedere. Partiamo dal livello 3. Ok, non mi ricordavo come si facesse, perché ho già sbloccato il nuovo stage, ma mi ricordo questa parte è complicata, ok ce l'abbiamo fatta, questa era facile. Questo pure, ma questo è un po' più difficile. Sai così, non mi veniva in mente come fare. Comunque vi ricordo che a 5 like ci sarà il prossimo episodio di Oh My God. Ok, quella casa è solo sfonda, quindi ho fatto così. 5 like quindi ci sarà il prossimo episodio di Oh My God. che è stato il prossimo episodio di Oh My God. Allora abbiamo fatto per questo, il prossimo episodio di Oh My God. non dobbiamo andare sopra, dobbiamo andare giù ecco, ho fatto anche questo, aggiusto, questo è proprio per un colpo, lo abbiamo fatto comunque questo è mille volte meglio di Geometry Dash, è vero che questo ti fa sclerare un po' ma non quando Geometry Dash, perché almeno i livelli sono divisi in parti e se perdi una parte ricominci per il diviso di quella parte, quindi è sempre meglio di Geometry Dash Geometry Dash è difficilissimo e vabbè, c'è l'edotalex704, che è bravissimo Geometry Dash ci vediamo quando ce l'avrò fatto ok, ce l'ho fatto anche qui ho un paio di tentativi ah, come adoro questa musica la adoro mi piace un casino, tipo ok, ce l'ho fatta anche qui un paio di tentativi devo stare attenti a sto cosa come faccio? ok devo saltare lì cioè anche se l'ho fatto non è che me li ricordo tanto bene ma penso è normale se l'altro guardate che bastardata c'è tipo sullo sfondo ci sono cosi che ingannano ok la prima volta ce l'avevo fatta al primo tentativo no ma perché non entri? ok prossimo colpo ora prossimo livello di oh my god comunque questo gioco non tiene molti stage quindi non è che è parecchio difficile il stage sarebbero i mondi tipo questo è lo stage del deserto poi il prossimo stage è quello della neve non è che è il ragazzo non è che è il ragazzo non è che è il ragazzo dobbiamo saltare qui ok ok non so come ce l'abbiamo fatta non so come ce l'abbiamo fatta nooo nooo così no non ci ricca ok sono un po' più complicatello ah qua arriva una parte più difficile che dobbiamo passare sotto che dobbiamo passare sotto ok ok ce l'abbiamo fatta allora ora faremo solo questo livello adesso non vi avvenire troppo lungo il video ricordo che al raggiungimento di 5 like vi porterò un nuovissimo episodio anche se è un gioco poco conosciuto è bello però dovevano fare più stage perché effettivamente è un po' cortino così certo sono complicati i livelli però magari uno che li finisce tipo noi che in un episodio facciamo mezzo stage finisce subito il gioco ok adesso vediamo dopo ok ah qui noi dobbiamo saltare qui sopra tutto e preferibilmente non atterrare qui un po' ok quando dico ci rivedremo quando ce l'avrò fatta ci riesco subito sempre ok cioè appena ho detto dopo subito il tentativo ce l'ho fatto quindi poi quindi non l'ho tagliata ci proveremo solo a fare questo livello e poi chiuderemo qui l'episodio non lo so quanti ne mancavano se non è piaciuto se non è piaciuto se non è piaciuto questo l'usogio ok cioè no veramente questa cosa è vera quando dico ci vedremo dopo un cambio ci riesco aia questa è particolare ok 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 ecco come faremo ok abbiamo completato abbiamo completato proprio lo stage come vedete questo era il livello 8 mi ho completato no giusto per farvi vedere vedete 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 no mi ricordavo perché c'era quella specie di cane alla fine perciò mi ricordavo comunque raga io spero che come vedete ci manca questo stage che nel prossimo episodio inizieremo dal livello 1 poi ci manca questo che non so cosa sia e questo qui che è una città e quindi raga io spero che vi sia piaciuto in tal caso lasciate like iscrivetevi al canale e poi vi ricordo anche di passare da tutti i link in descrizione tutti i social il sito il blog e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video bella ciao